Martedì, al nord una perturbazione abbandona lentamente le nostre regioni con piogge ancora possibili sul Triveneto, residue sulla Lombardia orientale, più soleggiato altrove. Martedì, la pressione non è forte. La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso, anche con precipitazioni che saranno più probabili sui settori alpini e prealpini. Al centro, la pressione è bassa. La giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente instabile, infatti ci saranno ancora rovesci che si alterneranno a schiarite sui settori tirrenici. Mercoledì, pressione non ancora forte. Giornata con rovesci e schiarite su Toscana, Umbria e Lazio, cielo poco o irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Clima mite. Al sud, tempo a tratti instabile. Giornata con maggior probabilità di precipitazioni sulla campagna e al mattino sul Salento. Sarà soleggiato altrove, caldo in Sicilia. Mercoledì, arriva l'alta pressione, pertanto in questa giornata avremo generali condizioni di bel tempo prevalente, ma con qualche pioggia in campagna e sul Salento, nubi sparse altrove. Mercoledì, arriva l'alta pressione, ma con qualche pioggia in campagna e sul Salento.